Nuova puntata di Memeconomics, ben trovati in nostra compagnia, la politica, la finanza, l'attualità raccontata attraverso il mondo dei meme, il linguaggio dei meme, elezioni americane e crisi di governo, questi due macro temi su cui abbiamo concentrato i nostri e anche abbiamo raccolto i meme di internet ovviamente attraverso il web, partiamo subito con il primo che vede Scarlett Johansson perché all'insediamento di Joe Biden, la cerimonia di Joe Biden non c'era Donald Trump, quindi Lady Gaga cantalino nazionale perché è stato invitato una grande quantità di VIP a questo insediamento tra cui appunto Lady Gaga e Donald Trump non ci sarà, non c'è stato, dato che l'insediamento si è già svolto e quindi insomma sostanzialmente soprattutto i detrattori di Trump anche dopo l'assalto al congresso in qualche modo spinto proprio dall'ex presidente ha strappato più di un sorriso come vedete anche attraverso il meme di Scarlett Johansson. Trump che però ha mandato una lettera a Joe Biden, una lettera personale riservata a Biden, non ha voluto rivelare il contenuto di questa lettera appunto definendola molto molto personale ci si è un po' fatto qualche domanda, chissà che cosa c'è all'interno di questa lettera ha anche cambiato un po' umore Joe Biden quando gli è stata fatta la domanda sulla lettera di Trump e quindi noi l'abbiamo immaginato così guardare attraverso la finestra appena dopo aver letto la lettera di Donald Trump forse, questa potrebbe essere l'idea, Donald Trump gli ha scritto quali sono le sfide quali sono diciamo le patate bollenti che dovrà tenere in mano insomma e dovrà risolvere Joe Biden bene facciamo vedere qualcuno con questo nuovo meme dove c'è un drago a cinque teste che sostanzialmente rappresentano le grandi sfide di Joe Biden che lo vedete un piccolo guerriero con in mano una spada, una daga qualcosa di più piccolo di una spada e dovrà gestire pandemia, Cina che tra poco vediamo cosa sta succedendo insomma all'interno a Pechino in generale nel paese asiatico, Boris Johnson con la sua Brexit, la Russia e ovviamente la gestione anche a partire dalla gestione della produzione del petrolio e poi la svolta energetica e investimenti green indirettamente, anzi direttamente collegati proprio al petrole, alle compagnie petrolifere che ovviamente in questo momento si trovano in difficoltà perché non ci sono i trasporti in più ci sarà la rivoluzione green. Queste insomma sono le sfide di Joe Biden che lo vedranno, che chi lo vedranno protagonista in qualche modo speriamo in bene andiamo avanti anche con il prossimo meme per farvi vedere qual è il primo provvedimento che ha in mente e di cui si parla già da diverso tempo per quanto riguarda la politica di Joe Biden e che potrebbe mettere un po' a tacere gli entusiasmi per questa nuova elezione, per questo nuovo presidente e cioè più tasse ai ricchi. Joe Biden, 46esimo presidente americano che si sta per mettere sull'asfalto, insomma in strada, ecco che viene travolto da più tassi ai ricchi e questa cosa potrebbe non piacere sia ai mercati, una determinata fetta di mercato, ma sia anche appunto al popolo americano. Dunque come vedete per Joe Biden non è un momento, sicuramente non sarà una presidenza facile ma l'ho anche detto nel suo primo tweet, non c'è da perdere tempo. Ma non si è parlato solamente di Joe Biden, si è parlato anche di Kamala Harris, la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti che ha giurato appunto in quel di Capitolino al Campidoglio. Beh, qui riesumiamo i Simpson e torneranno nel corso della puntata perché come vedete una vecchia puntata che prevedeva Lisa Simpson, presidente degli Stati Uniti, la prima presidente donna, vestiva e allo stesso modo con cui insomma si è presentata appunto Kamala Harris. Quindi abito viola, giacca viola e anche con tanto di collana. Non è la prima volta che i Simpson azzeccano sul futuro e quindi anche questo è stato virale in qualche modo all'interno del web. Andiamo avanti perché non solo Stati Uniti, come detto, ci sono anche altri paesi che fanno parlare di sé sul lato economico e non soltanto, in particolare la Cina. E cioè ci sono nuovi lockdown, ci sono nuove varianti Covid che si stanno espandendo nel mondo, i vaccini vanno a rilento, soprattutto in Europa, i trasporti sono di nuovo fermi. C'è però il PIL della Cina che continua a crescere. Nel 2020 ha registrato un dato positivo, è l'unico probabilmente nel mondo, più 2-3%, ed è stato rivisto al rialzo anche il PIL del 2021. E allora noi ci immaginiamo il PIL della Cina con il volto di Leonardo Di Caprio nel film Django Unchained che se la ride bevendo dal suo calice. Dunque, come dire, nuove varianti Covid, una situazione in evoluzione preoccupante e andando avanti c'è da dire che la gente comincia a raggiungere un discreto livello di esasperazione. Anche perché ci sono alcune zone della Cina di nuovo in lockdown, specie a sud di Pechino. Variante inglese in almeno 60 paesi? Beh, un ma basta, anzi, basta, come dice Aldo nel film Dei tre uomini in una gamba, è quasi, non dico liberatorio, ma sostanzialmente quando c'è voce voi. Questo vale per il meme, ma anche vale per noi che insomma siamo ancora, noi in Italia che siamo ancora sotto regime di regioni gialle, arancioni rosse, quindi ci si può muovere, ma fino a un certo punto. Andando avanti ci spostiamo un po' più sulla finanza, ma manteniamo ancora i toni appunto del trio milanese. Perché questa è una storia vera, è una notizia vera. Negli Stati Uniti un uomo non ricorda più la password del rischio di perdere 200 milioni in Bitcoin, Bitcoin che sta subendo discreti momenti di volatilità al rialzo e al ribasso. Beh, Giacomo, di Aldo Giovanni Giacomo, qui estrapolato dai corti di fine anni 90, viene da dire ma allora sei deficiente, proprio per citare insomma anche proprio il tono che utilizza all'interno della gag durante la loro gita in montagna. Rimaniamo ancora sul tema dell'economia, perché come detto insomma il Covid sta mettendo a dura prova l'economia del mondo, ma soprattutto quella italiana ci concentriamo su di essa, perché alla fine noi siamo in Italia. Ebbene, il fatturato industriale in Italia, qui lo abbiamo identificato in una specie di airone, dovrebbe essere questo. Beh, insomma l'Istat sospende la diffusione dei dati sugli ordini. Qui ci immaginiamo un enorme squalo che sostanzialmente si porta via il fatturato industriale in Italia, è talmente crollato, questa è la versione ufficiale, che l'Istat ha deciso di sospenderne la diffusione dei dati sugli ordini. Insomma, dobbiamo solamente sapere che sta andando molto, molto male, però probabilmente ai minimi di sempre. Questo per dare un'ulteriore fotografia del momento che stiamo vivendo. Andando avanti con la nostra rassegna dei meme, possiamo adesso finalmente concentrarci sulla crisi di governo. Come sapete, insomma, Conte è rimasto presidente, grazie a una maggioranza risicata, se vogliamo usare questa espressione, grazie al voto di alcuni senatori che, insomma, si sono proposti proprio al photo finish. Anzi, a tempo scaduto è stata utilizzata l'espressione VAR per far sì che il presidente del Senato potesse richiamare qualcuno che non era riuscito a votare entro il limite massimo, in primis il senatore Ciampolillo, che è diventato subito un po' il mirino, insomma, è stato messo al centro di tanti meme divertenti su internet. Intanto per noi l'evoluzione della politica italiana è questa, da Ciampi a Ciampolillo negli ultimi 40 anni. Non dico che sia un attimo, perché 40 anni sono lunghi, però, insomma, piange un po' il cuore, non solo lui, a vedere, insomma, questo passaggio di consegne, dato che il nome abbastanza... i cognomi si somigliano e non poco. Ciampolillo che, sostanzialmente, ci si è domandati ma come mai entro la fine del... insomma, non si è presentato entro l'orario stabilito per il voto. E allora ce ne sono tante che ne hanno pubblicate nel web. C'è questa, in real time, non sapevo di essere in Senato. Lo sguardo di Ciampolillo, peraltro, aiuta. Non so cosa ne pensate voi. Il prossimo, perché ce ne sono appunto diversi di meme su il caso Ciampolillo che non si è presentato in Senato in tempo per votare. Vediamo il prossimo meme. Ecco, immancabile, Morgan da Sanremo, che, insomma, che succede? Dove è Ciampolillo? Nessuno sa dove sia, nessuno sa il motivo per cui non si sia presentato in tempo. E allora ce ne sono ancora altri. Vediamo il prossimo. Ecco, questo è un altro meme che è piuttosto diffuso sul web. Quando sei Ciampolillo dovevi votare alle 22? Ma sono le 22.20. Vediamo quest'uomo un po' stordito, appena risvegliato, con una luce anche abbastanza chiara, evidente, come a dire che si è svegliato piuttosto tardi. In questo caso sarebbe sera, perché sono le 22.20, ma comunque il senso rimane lo stesso. Ne abbiamo ancora un altro paio, credo, su Ciampolillo. Beh, il classico Homer Simpson spaparanzato sul divano, che dice, ah, come mi piace spaparacchiarmi il lunedì. Spunta a marge e dice, ma Senatore Ciampolillo oggi è martedì. E come vedete gli occhi di Homer o i di Ciampolillo, che escono un po' fuori dalle orbite. Credo che ne abbiamo ancora un altro su il Senatore Ciampolillo. Vediamo se è così, per ancora, insomma, chiudere un po' il discorso. No, non ce ne abbiamo un altro. Allora chiudiamo questa puntata di Meme Economist con un aspetto anche particolare. Come i mercati, come l'economia ha reagito a fronte di questa crisi di governo, che comunque è durata diversi giorni. Ci si aspettava che il Fuzimib scendesse, ci si aspettasse che lo spread salisse, e invece no, lo spread non è andato oltre i 120 punti, che è comunque un livello assolutamente non preoccupante. Il Fuzimib si è mosso allineato con gli altri mercati e allora per noi è andata così. Strappo di Renzi, governo in crisi, spread e piazza affari, davvero importante. Come dice il comissario Winchester, scriverò tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Insomma, ai mercati della crisi di governo non gliene è fregato un bel niente. Complice, ovviamente, il lavoro della Banca Centrale Europea che continua ad acquistare e per favorire, insomma, l'equilibrio e la stabilità dei mercati. Così si chiude Memeconomics. Grazie per averci seguito. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Ci vediamo alla prossima puntata. Rimanete in compagnia delle fonti TV.